C'è chi ha perso il lavoro o ha avuto una riduzione importante dello stipendio e per questo non riesce a far fronte ad affitto, mutuo, utenze, spese condominali. Sono più di 100 le domande presentate alla scadenza del bando Aiutiamoci Belluno, attivato dal Fondo Welfare in collaborazione con il Comitato d'Intesa, con la raccolta fondi per le emergenze sociali derivanti dalla pandemia. La composizione di queste domande ci fa capire il bisogno, perché ci sono moltissimi single, ma anche moltissime famiglie, e moltissime famiglie anche che superano le cinque unità. In totale mi pare che le persone tra singoli e famiglie che in qualche modo hanno subito questo calo del reddito e quindi hanno necessità di un supporto per poter proseguire dignitosamente la loro vita, la loro qualità di vita, sono 320. Gli ambiti individuati fanno riferimento ai territori dell'ex ULS 1 e 2. Il bando per il Feltrino è in scadenza il prossimo 3 settembre. In questi giorni è partita l'erogazione dei contributi raccolti grazie alla generosità dei bellunesi, 44 mila euro, una cifra importante che servirà a sostenere famiglie e lavoratori. Ampio il criterio definito per presentare domanda. L'unico criterio di base era quello di dimostrare che c'era stato un calo del reddito in questo periodo ed è rivolto a lavoratori di tutti i tipi. Abbiamo ampliato anche le necessità della didattica a distanza, però in realtà sappiamo che sono arrivati moltissimi bandi da parte con dei contributi specifici per l'aspetto alimentare, per gli affitti, per la didattica a distanza. Noi daremo un contributo economico che la persona potrà spendere secondo le proprie necessità. Le donazioni sono arrivate anche dalle trattenute in busta paga ai lavoratori delle aziende che hanno aderito al fondo. Io ringrazio ancora Confindustria e i sindacati che hanno trovato questo accordo che poi ha come collettore proprio il fondo Welfare. A questa iniziativa hanno già aderito 29 aziende, tra cui anche la provincia di Belluno che non è un'azienda ma è un ente. Tra le iniziative del fondo Welfare anche l'attivazione di uno sportello virtuale per incrociare domanda e offerta di lavoro. Piccoli tasselli per costruire insieme il futuro del territorio e delle comunità locali.